Tommaso Bernardeschi al termine di l'Energy Pisa-ICR-Namezia. Tommaso, l'ultima gara, la gara che chiude questa tappa di Ciron Marina. Innanzitutto raccontaci le sensazioni al termine di questa seconda fase di campionato. Abbiamo fatto quattro punti in tre partite, abbiamo vinto l'ultima facendo diversi gol. Potevamo fare meglio sicuramente, però prendiamo quello che c'è di buono in questa tappa. Oggi giornata speciale per l'Energy Pisa, ma anche per te. Non soltanto 12 gol messi a segno dai nerazzurri, è arrivata la tua prima rete in Serie A. Tommaso, innanzitutto raccontaci l'emozione e poi a chi va la dedica. Sicuramente aiutato da un pizzico di fortuna, perché ci provo spesso, anche quando gioca con i ragazzi dell'Under 20, però spesso la palla non finisce in porta. Stavolta magari guardato da qualcuno dall'altro sono riuscito a farla entrare e niente, la dedica va a mio nonno, sicuramente perché cerca sempre di seguire le partite, anche se non è molto tecnologico, la dedicava a lui, che mi segue fin da quando ero piccolino. Grazie.